Ciao ragazzi e bentornati sul canale Gaming Now Cominciamo oggi il gameplay di Fallout 3 un bellissimo gioco di ruolo un open world sia di prima che in terza persona chi non conosce la serie di Fallout è una delle serie più famose del mondo videoludico questo Fallout 3 è sicuramente uno a mio parere dei più bei videogiochi usciti in questi anni la versione che ho acquistato io è la GOTY la Game of the Year Edition che include in sé i 5 DLC usciti ovvero The Pit Broken Steel Point Lockout Operation Anchorage e Mothership Z Dunque già di per sé Fallout 3 è un gioco molto lungo per sé essendo un open world come tutti i giochi di ruolo insomma una storia bella lunga anche perché insieme alle missioni principali ci sono molte missioni secondarie che prenderanno molto molto tempo per concludere il gioco e includendoci in più queste 5 missioni aggiuntive diciamo che Fallout 3 è forse uno dei giochi più lunghi mai usciti a mio parere secondo me poi magari mi sbaglio comunque che dire cominciamo subito quindi il gameplay di Fallout 3 io vi dico già che sarà molto molto lungo perché appunto ovviamente insieme alle missioni principali cercherò di registrare tutte le missioni secondarie e di farvele vedere il più possibile ovviamente ovviamente compresi anche DLC le missioni aggiuntive che mi prenderanno ovviamente cercherò di registrarle tutte quante le missioni dei DLC cerchiamo di aumentare un po' la luminosità perché di per sé Fallout 3 negli ambienti oscuri è molto molto bassa la luminosità quindi il colore del Pit Boy facciamo blu ah sì dai allora è add umbra ok va bene allora direi che possiamo cominciare questo Fallout 3 questo bellissimo gioco di ruolo post apocalittico va ambientato infatti in America nel Nord America in una un'America post apocalittica dopo una guerra nucleare infatti ci troviamo in personale un personaggio che ovviamente dovremmo creare noi come in ogni gioco di ruolo che dovrà appunto aggirarsi in questa zona desertica e contaminata dalle radiazioni chiamata appunto zona contaminata in una Nord America post apocalittica insomma una guerra nucleare combattuta con la Cina e niente dovremmo svolgere una una storia diciamo portare a termine principale come dicevo con tante piccole missioni secondarie che di tanto in tanto ci verranno assegnate il bello di questo gioco è che dovremo esplorare tutta l'aria e scoprire quindi i vari luoghi i vari posti che altrimenti sarebbero sulla mappa non indicati quindi l'esplorazione che sicuramente porterà via molto tempo del gioco vi lascio intanto alla sigla alla sigla iniziale di Fallout 3 i'll have reached the goldmine dreaming of the i 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 fallout 3 la guerra la guerra non cambia mai sin dalla comparsa dell'uomo sulla terra quando i nostri progenitori scoprirono il potere omicida di pietre e ossi è stato versato sangue in nome di Dio della giustizia anche solo di un semplice momento di rabbia nell'anno 2077 dopo millenni di conflitti armati la natura distruttiva dell'uomo era arrivata alla saturazione il mondo era sprofondato in un abisso di devastazione atomica e di radiazione ma non era come molti sostenevano la fine del mondo l'apocalisse era semplicemente il preludio di un nuovo sanguinoso capitolo della storia dell'umanità perché l'uomo era riuscito a distruggere il mondo ma la guerra la guerra non cambia mai quando tutto ebbe inizio in migliaia conobbero la salvezza dagli orrori in enormi rifugi sotterranei chiamati volt ma quando tutti tornarono in superficie tutto quello che trovarono fu una zona contaminata tutti eccetto chi aveva vissuto nel volt 101 dal giorno in cui era iniziata la pioggia di fuoco dai cieli la massiccia porta di acciaio del volt 101 si chiuse e mai più si riaprì è qui che sei nato ed è qui che morirai perché nel volt 101 nessuno può entrare e nessuno può andare via ok allora la nostra storia inizierà proprio in questo volt questo rifugio bunker anti-atomico 101 ok ecco iniziamo proprio dall'inizio dalla nascita quindi questa con una ginecologa immagino vediamo sei maschio o femmina ovviamente possiamo scegliere il sesso ovviamente il ragazzo è un maschio un maschio abbiamo un figlio un bellissimo ma perché guarda di lato se ti sono nato ma dove c'è la ragazza questa ce l'abbiamo fatta un figlio ma scusa sono nato sono nato storto passa le gambe sono lì hai un futuro davanti figliolo ce lo so di sicuro sicuro guardati mi guardo darmi uno specchio ciao sono tuo papà cucciolo ah il mio papà papà ti ci parlerà eh certo come è me lo chiedi pure che ne dici se ok come lo chiamiamo io direi ce l'ho già in mente ovviamente ovviamente un nome abbastanza particolare cioè particolare Renato ma sì Renato chiamiamolo Renato va Renato Renato no però sembra che abbiano finito la proiezione genetica proiezione genetica ah addirittura possiamo già vedere i miei tratti da grande ovviamente è tutta tanta scienza allora possiamo scegliere quattro razze diverse afroamericano asiatico caucasico ispanico ispanico diciamo ehm non puoi ispanico diciamo ispanico che dite ma sì dai ispanico tipo spagnolo o portoghese guarda il giro questo sembra tipo Hitler gli mancano i baffettini ma sì dai così mi piace mi piace taglio ah a pelata riporto abbiamo anche il riporto sta in piatto ora sbandato pompa duvro cazzo set del tunnel cortino di nord taglio di nord terror sauro cristino ambizioso il taglio ambizioso cioè che cazzo il taglio facciamo così sbandato ma sì dai sbandato sbandato ci piace colore capelli colore capelli lo facciamo così dai ok ok sembra tipo un nobile dell'ottocento abril abril lincoln don juan macchiavellico moschino moschino sotto il mento ma che cazzo biker a poca vista mefistofilo ombre è il carcinero pocherista facciamo così pocherista dai così mi piace ma sì dai un altro bullo dai pocherista dai sì assomiglierai molto a tu proprio per niente cioè assolutamente no è un grande mondo là fuori pieno di gente di tutti i tipi e tu che persona sarai? sei solo? james c'è qualcosa inizia la compressione porta fuori il bambino forza uno due mille porta fuori il bambino ma ma aspetta siamo lui un anno dopo un motore non un barbone se mi delui ci saranno e alla piccola puccia il tuo futuro sarà per l'azione non voglio giornate ci donati e questo posto sarà casa nostra casa vieni qui campione forza vieni da papà missione aggiunta primi passi ok abbiamo già la prima missione cammina da papà babini esploriamo un po' il recinto stiamo gattonando attenzione cos'è guarda un po' santo cielo hai un anno e già cammini da professionista tua madre sarebbe stata molto orgogliosa ascolta pulce so che non ti piace puccia ma come ti parlo stai qui mentre papà lavora ma mi chiude torno subito maledetto questi padri pallone mia mia che è stato apri il cancello del bo ah vedi siamo già dei fuggitivi impariamo già da neonati apri il cancello un peluccio ovviamente esci dal box esci dal box ok al momento ovviamente i tasti sono limitati perché ancora non possiamo fare i'm alfa and omega guarda il libro sei special sono l'alfa e l'omega the beginning and the end the inizio la fine i will give a hint to him darò a lui that's his artist of the fountain of the water of life io darò a lui io darò in lui che è l'artista della fontana dell'acqua della vita freely regulation libro sei special ah qua leggiamo attiva sei special ah praticamente questi qua sono dei punti abilità che dobbiamo metterci stress stress sta per forza e vuol dire che sono muscoloso posso portare giochi e sollevare un sacco di cose senza riposo allora abbiamo un totale di dieci punti da distribuire facciamo facciamo quattro dai anzi tre dai p sta per percezione una parola lunga e divertente vuol dire quello che si assaggia si annusa si vede e si sente diciamo e anduan sta per stamina ed è il tempo per cui posso giocare sono sempre molto attivo e non puoi farmi mai stancare ma praticamente l'energia fisica io direi cinque portate portate no aspetta però abbiamo altri punti poi ci sta per carisma quello per cui piaccio alla gente faccio ridere tutti i miei amici e non voglio mai litigare per niente i sta per intelligenza vuol dire che sono davvero brillante uso il cervello per un sacco di cose come scienze matematica e arte a sta per agilità cioè come mi muovo sono molto abile e veloce senza fare mai un suono l'ac sta per fortuna ed è semplice come vedi vuol dire che mi succedono cose solo cose belle ci credi? no però aspetta allora forse aggiungiamo un po' di forza perfetto tutto finito quindi forza 8 percezione 4 stamina 4 carisma 6 intelligenza 5 agilità 6 fortuna 7 ok queste saranno le nostre abilità anche da adulto dunque attenzione prendi porta bloccato molto difficile ti serve un livello di abilità scasso di 100 che non ha aia mi ha sghamato ti piace eh sì non posso scavare voglio mostrarti una cosa vedi era il passaggio preferito di pomade viene dalla bp apocalisse 21.6 ecco il principio è la fede a chi ha sete io darò gratuitamente della punta dell'arco della vita le è sempre piaciuto d'accordo forza andiamo a vedere se la tua amica amata vuole giocare la mia amica amata? è il permesso 9 anni dopo facciamo esperimento per sopravvincere io certo hai acceso la luce troppo in fretta ora non ci vede oh in due secondi dalla nascita sono passati sono passati a dieci anni già dalla nascita complimenti ragazzo non devo dirti che questo è un giorno speciale giusto? qui nel vote 101 a dieci anni si è pronti ad assumersi le prime responsabilità eccoti come soprintendente ti presento il tuo personale Pip Boy 3000 devi prenderci confidenza domani ti sarà assegnato il primo lavoro goditi la festa si hanno dieci anni una volta sola Pip Boy 3000 Sistema PA del Volt 101 crescita rapida siamo tutti membri del Volt 101 a quanto vedo buon compleanno ti abbiamo fatto una magnifica sorpresa vero? tuo padre aveva paura che ci avessi scoperti ma gli ho detto di non preoccuparti è così semplice fregarti ah si chiama si chiama Amata lei ecco perché è la tua amica amata che cazzo ama c'è si chiama Amata c'è un un jukebox dietro allora possiamo come in ogni gioco di volo che si rispetti possiamo durante il gioco dialogare con i personaggi è scegliere noi le risposte quindi creare creare noi dei dialoghi e a volte in base alle nostre risposte possiamo cambiare la storia quindi proprio una capacità di modificare il gioco in prima persona che rende i giochi di volo molto più affascinanti non c'è qui c'è la storia ovviamente principale è quella però come condurla possiamo sceglierlo noi non mi hai fregato facevo solo finta di non sapere della festa Amata grazie per averla organizzata per me tutto qui o la vera festa non è ancora iniziata di niente ma in realtà ha fatto quasi tutto tuo papà io ho solo aiutato con gli addobbi e tutto il resto ehi scommetto che non indovini il mio regalo forza indovina dammi subito il regalo non ne ho proprio idea un appuntamento con Christine Kendall che schifo non pensavo che ti piacessero anche le ragazze e beh sono un ragazzo non rispondermi male sai cosa intendo dovrei darlo a qualcun altro qualcuno che preferisce grognac il barbaro a quella Christine la questione è come vedere la differenza ah ah simpatica grognac il barbaro che cazzo è allora con start c'è il menu select ah ecco allora quindi possiamo giocare in prima persona o in terza quindi prima persona terza persona ti stai divertendo proviamo in prima persona possiamo anche cambiare la visuale quindi così dicevo in poco tempo siamo passati da la nascita a dieci anni ci siamo bruciati a dieci anni di vita deduco che nostra madre è morta al parto durante il parto ok bit boy allora il bit boy il bit boy non bit boy il bit boy il bit boy il bit boy è una sorta di guida elettronica statistiche quindi queste qua sono le abilità che abbiamo appena le caratteristiche special poi abbiamo le abilità che dovremo andare a potenziare durante il gioco che sono un'infinità baratto influisce sui prezzi di vendita e sull'acquisto degli elementi armi pesanti determina il grado di destrezza in combattimento con armi oversize squali fetme lanciamissimi lanciafiamme mitragliatore cannone rotanti alla madonna armi e energia esplosivi scasso medicina armi da mischia ripara ascenza armi leggere furtivo eloquenza disarmato milità extra generale poi oggetti ovviamente ora non ne abbiamo armi vesti tuta del vol 101 da bambino aiuto grogni anche il barbaro aumento in armi da mischia ok munizione vediamo se se togliamo ragazzi se togliamo le vesti ieri siamo nudi ma si da un po' di nudità dati sistema PA del vol 101 c'è una radio possiamo anche attivare le radio nota missioni crescita rapida divertiti alla festa e parla con gli ospiti mappa globale ecco ragazzi questa è la mappa di tutta la zona contaminata che non avete idea di quanto sia immensa a prima vista sembra davvero molto piccola invece vi garantisco che è davvero molto grande come area un'area davvero molto vasta qui in mezzo c'è un fiumiciatolo mappa locale mappa globale mappa locale ovviamente va bene va bene parliamo un po' con gli invitati spero che apprezzi il soprintendente il soprintendente sembra davvero che tu le piaccia per qualche motivo ecco non ti affidare troppo alla sua amicizia giovanotto sono il soprintendente e sono a capo di questo volto e di chi ci abita e stai tranquillo che cazzo c'è ti piace la festa alziana signora Paolo dieci anni non riesco a crederci sembra solo ieri che il tuo papà è arrivato santo cielo ascoltami stai aspettando il tuo regalo no? che ometto educato non perdere questa schiettezza ce ne servirà un bel foco a giù ecco un bel rotolo dolce che ho preparato per te stamattina ed è tutto per te sei festeggiato non devi dividerlo con nessuno oh cazzo oh cazzo edy abbiamo un robot chiamato edy sono mortificato sono mortificato per l'incidente ho fame e quello stupido robot ha distrutto la torta dammi quel rotolo dolce che hai preso dalla signora Palmer levatelo dalla testa bacio non parlate di mia mamma piattole se ne prenderai non mi piacciono saputelli oh 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 sono incazzato oh cosa stai facendo lascialo in pace ecco come va ragazzi stai bene figliolo spero che Butch non ti abbia fatto del male vuoi dirmi com'è andata va bene figliolo sono felice di vedere che non ti lascio mettere i piedi in testa da Butch tra qualche anno diventerà ingestibile se sua madre non se ne occupa bene sul danno allora perché non riprende a goderti la tua festa ehi grazie per l'invito complimenti per la festa è davvero bella ma insomma Butch ti ho creato un sacco di problemi ma non prenderla seriamente ok comunque buon compleanno ora farei meglio a tornare sai adesso siete migliori amici è frappato la festa questo è il tuo è il tuo nuovo sì ma facciamolo figo vero facciamolo chi è il capo della banda tu o io non se comunque che problema ha Butch non posso credere che abbia cercato di fare una rissa alla tua festa di compleanno che deficiente eh fortuna che Gomez quello stronzo ha cercato di rubare il mio rotolo dolce Dio è davvero un deficiente bene si può sempre contare sul fatto che Butch si renda ridicolo capito? ti parlo credi che tu sei sorpreso? comunque se sono nudo c'è un motivo amata amata che dici? andiamo al bagno? questa festa non è niente male direi per un bambino piccolo palloncini cappellini non bella quanto la mia festa però ricordi? mio papà aveva ingaggiato Andy per fare le magie e tutti abbiamo giocato a caccia al mutante nell'atrio oh giusto tu non eri tra gli invitati alla mia festa che peccato è stata davvero divertente ma ammazza che bella buon compleanno signoriano ma buon compleanno scivoliano nel pavimento non stiamo camminando non è preoccupato non significa che debba parlare sono felice che tu ce l'abbia fatta stai divertendo? ti sta piacendo la festa? vai che splendido ti piace quel bit boy figliolo? funziona bene e tutto il resto? sì lo è non è come quello degli altri non ne fanno più così giusto? questo l'ho conservato per te la serie A è un po' più pesante di altri modelli ma non ti deluderà ci potresti sganciare sopra una bomba e funzionerebbe ancora nessun dubbio ok certo come vuoi mi hai portato qualcosa per il mio compleanno? andavo parlando del peep boy e quasi dimenticavo il tuo regalo ecco buon compleanno non è molto ma spero ti piaccia cappello da baseball come va? cappello da baseball vediamo rotto lo dolce mangiato da fiesta ascolta Baccio non credo il vol ti piace l'abbastanza forte sono Filippi tutto bene? Bucce ti sta di nuovo dando fastidio? non preoccuparti papà posso occuparmi di Baccio sono felice di saperlo se ti lasci mettere i piedi in testa lo faranno per sempre forza scommetto che c'è qualcun altro che è un regalo per te suono? non imparco non posso credere non posso rimani e goditi la protesta di compleanno permette di augurarti il buon compleanno è considerata la Joy Inventure che vi è successo nella storia dell'industria ehi era Jonas sull'intercom lui e io ti abbiamo fatto una piccola sovra Jonas Jonas ti sta aspettando giù al livello reattore vai e non credere che a qualcuno dispiacerà se ti assenti per qualche minuto incontro Jonas al livello reattore buon compleanno beatrice santo cielo spero di non essermi persa la festa sì mio padre e la Marta mi hanno organizzato una bella festa certo che sì santo cielo già dieci anni mi ricordo che aiutavo tuo papà a cambiarti pannolini e adesso guardati sei grande hai già dieci anni e il tuo peep boy personale dato che si tratta di un'occasione speciale sai cosa ho fatto ti ho scritto una poesia solo per te spero ti piaccia non fare l'idiota una poesia ogni compleanno questa è la mia regola se te ne avessi date due pensa come sarebbe geloso Butch ah è sua madre questa allora una poesia di compleanno mura grigio e acciaio impenetrabile soffocamento condanna piccole maniche brancolano nell'insicurezza sotterranea mamma papà sono morto no no rinasci in una fluorescenza purificante che cazzo di pesia affiora un viso duro e maschile mio padre padre di tutti veglia sulle nostre vite sulle nostre eternità da larva a pupa da pupa a operaia api in un alveare d'acciaio dieci anni nel vol 101 alla fine contano finché il grigio non si espande dalle mura ai capelli fino all'anima poi il sonno eterno il dolce olio della cremazione bene bene allora P.A. a sinistra a destra abbiamo praticamente la barra della vita invece a sinistra HP non mi ricordo se è quella di destra o di sinistra la barra comunque a sinistra c'è la bussola anche quindi possiamo orientarci upper level uno che c'è sopra sembra che tutti si stiano diventando ah reattore ok reattore che ci fai qua giù ragazzo Jonas pensavo che a voi bambini fosse proibito scendere al livello reattore piantalo Jonas dove è finita la mia sorpresa vedo ora che ai dieci anni ti interessano solo gli affari bene amico mettiamoci alla luce buon compleanno a proposito aspetta ancora un minuto vedo di sentire qualcuno chissà un mare posso farti vedere la tua sorpresa certo il soprintendente ti ha dato il tuo pip boy sei abbastanza grande per lavorare quindi sei abbastanza grande anche per questo la tua pistola d'aria compressa è uno adattata ma dovrebbe essere perfettamente funzionante pistola d'aria compressa ho trovato questa cosa qua giù non era messa bene ci sono voluti tre mesi a un ragazzino di dieci anni una pistola ad aria compressa fortuna che buccia ha riposto male quel suo coltello a serramanico allora che ne pensi vuoi provare sei un padre sconsiderato un fucile ad aria compressa un bambino di dieci anni e io cosa posso uccidere calma è una pistola ad aria compressa un fucile non un giocattolo andiamo a provarlo Jonas e io abbiamo trovato un bel posto seguimi va bene buon compleanno amico spero che tu ti ci diverta non puoi darmi un vero fucile il fucile ad aria compressa ed ha sfigati forse sì ma è meglio che il soprintendente non ti veda in quell'affare per quanto ne sa è un'arma vera cosa ti ha fatto Jonas ha lavorato molto e il volt 101 ti offre un futuro più brillante sotto terra beh che ne pensi puoi venire qua giù a sparare quando vuoi non ce l'avrei fatta senza l'aiuto di Jonas ringrazio forza forza spara qualcosa per lui per sparare con la tua arma premi RT benvenuto al sistema di puntamento assistito Voltec o Spav la tua possibilità di colpire un bersaglio e le condizioni di ogni parte del corpo ok quindi possiamo mirare i bersagli colpire le parti del corpo ci indicano la loro integrità testa 83% tronco per la destra Spariamo? Oh cazzo, uso il fucile ad aria compressa per uccidere lo scarafaggio radioattivo. Ok, testa, zampe... Ah ok, piazzerebbero praticamente la... Un selfie? Figlia sarebbero praticamente le abilità di mira, invece HP è la vita, a sinistra. Sei anni dopo? Allora, dovremmo avere 16 anni ormai. Per quanto ne so, sei un sedicenne che gode di ottima salute, quindi sì, devi andare in classe e dare il tuo esame GOT. Per forza. GOT? Ma ho una malattia, davvero? No, no, davvero. Quando ho iniziato a studiare medicina, una delle prime cose che ho imparato... Ah, è un medico! Per capire quando un ragazzo si finge malato per evitare un... Nostro padre è un medico. Cazzo. Non è così difficile. Tutti devono farlo a 16 anni. Ho dovuto farlo io, devi farlo tu, ed è così per tutti. E la maggior parte delle persone ce la fa senza sforzi. Niente che dovrei conoscere riguardo al GOT. Il test di attitudine occupazionale generale. GOT. Tutti qui nel VOLT lo fanno a 16 anni. È utile per capire che tipo di lavoro avrai nel VOLT 101 quando crescerai. Quindi fa attenzione e cerca di non addormentarti. Sai cosa dice il soprintendente? Siamo nati nel VOLT, moriremo nel VOLT. Tutti vengono testati per determinarne le abilità, affinché possano lavorare per il progresso di tutti i residenti del VOLT. Capisci? Dobbiamo morire nel VOLT, non potremo andarcene mai? Non è così che funziona. E sarà meglio evitare di andare in giro a fare domande come quella. Specialmente al soprintendente. Ora voglio dirti una cosa. È importante. Quindi ascolta attentamente. Questo posto, questo VOLT, non è perfetto, lo so. Ma è la nostra casa. Qui sei al sicuro. Stai dalla parte del soprintendente e lo sarai sempre. Capisci? Devi apprezzare tutto ciò che hai. Perché quello che c'è lassù, all'esterno, non è la vita che voglio per te. E neppure tua madre lo voleva. Ehi, non sono io a decidere. Le regole sono queste. Ora hai 16 anni. Quindi quest'anno farai il GOT. Andiamo. Non è così difficile. Tutti devono farlo. Vedrai che andrà bene. Ciao papà. Mi raccomando figliolo. Ora vai. E buona fortuna. Ok. Missione aggiunta. Futuro imperfetto. Prendi fermablocco medico. Sistema dati ai medici 200. Cartella dei pazienti. Esperimenti. Esperimenti. Ma cosa sta lavorando? Nessuna mutazione. Grazie a Dio. Se qualunque cosa sia là fuori riuscisse a entrare in questo vault. Non posso nemmeno immaginare cosa farebbe il soprintendente. Il soprint... Soprintendente. Visita al vecchio prima della lezione. Ehi, ehi, ehi. È da un po' che non passi da qui a lavorare. Armadietto vault. Oggi è il grande giorno... Vabbè ragazzi. Attenzione qui abbiamo una statuetta da collezionisti. Buongiorno Jonas. Buongiorno Jonas. Come va? Hai avuto l'occasione di dare una chiamata sul caso. Borsario. Mi sono proprio esaminando ora. C'è qualcosa che ti prego? Ah, possiamo rubare alle persone. Per te lo darvi un'occhiata. Trova bambulina. Hai trovato una bambulina vaultec in edizione limitata. L'iscrizione recita. L'uomo intelligente sa che una venda si limita a nascondere le sue ferite. La tua abilità è in medicina. È aumentata in modo permanente di 10 punti. Nessun problema. E a cosa serve l'università quando abbiamo queste bamboline? Va bene ragazzi. Il primo gameplay di Fallout 3 si conclude qui. Commentate. Mettete mi piace. Iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo gameplay.